Buon pomeriggio a tutte e a tutti, oggi assisteremo a una nuova lezione del nostro ciclo di incontri sulla storia del Partito Comunista Italiano, un ciclo di lezioni per chi non ne sapesse, un ciclo di lezioni organizzato da Historia Magistra dal titolo Il secolo breve del comunismo italiano, un ciclo di lezioni organizzato nell'anno del centenario della nascita del Partito Comunista d'Italia. Per chi avesse perso le precedenti lezioni vi ricordo che potete vederle sul canale YouTube di Historia Magistra e vi invito anche a iscrivervi al nostro canale per stare aggiornati sui nostri eventi e per vedere anche le altre iniziative che abbiamo organizzato. Quindi continua il ciclo di incontri sulla storia del Partito Comunista Italiano e la lezione di oggi ha come titolo Il Partito Nuovo di Togliatti 1944-1964. La lezione di oggi è condotta da Francesca Chiarotto, dottoressa di ricerca in studi politici presso l'Università degli Studi di Torino. Da alcuni anni svolge attività di ricerca per l'edizione nazionale degli iscritti di Antonio Gramsci e segretaria di redazione di Gramsciana ed è anche coordinatrice di Historia Magistra e mi permetto di dire è una colonna portante della nostra rivista e colgo l'occasione anche per ringraziarla pubblicamente per il lavoro che svolge, direi, quotidianamente per questa rivista appunto. Tra le altre cose Francesca Chiarotto ha curato il volume Aspettando il 68, Continuitò e fratture nelle culture politiche italiane dal 1956 al 1968, edito da BHM, la Biblioteca di Storia Magistra, nel 2017, e inoltre è autrice del volume Operazione Gramsci alla conquista degli intellettuali nell'Italia del dopoguerra, edito da Bruno Mondadori nel 2011. Un libro molto interessante in cui Francesca racconta, diciamo, la scoperta e la fortuna di Gramsci nel dopoguerra, merito anche di un progetto politico, quello di Togliatti, per la costruzione dell'egemonia comunista, diciamo, in Italia. E oggi Francesca, appunto, riguardo Togliatti, ci parlerà della nuova concezione del partito inaugurata da Togliatti, al suo rientro in Italia, con la svolta di Salerno, della democrazia progressiva, delle elezioni dell'aprile del 48, dell'attentato a Togliatti del 48, la posizione del Partito Comunista Italiano di fronte alla crisi del 68, e, come è già citato, Operazione Gramsci, appunto, e del rapporto con gli intellettuali. Introduco brevemente questa lezione, vi dico solamente due parole. Nella primavera del 1944, dopo 18 anni di esilio circa, Palmino Togliatti entra in Italia e negli anni aveva trascorso, diciamo, negli anni trascorsi fuori dai confini nazionali, si era mosso tra Mosca, Parigi, aveva partecipato alla guerra civile in Spagna e era diventato uno dei rappresentanti del Comintern. Nella biografia di Aldo Agosti, Togliatti, appunto, la biografia su Togliatti, si ricostruisce il ritorno di Togliatti in Italia e, infatti, eccolo, quello lì, nel 1944 giunge a Napoli, dopo circa 20 giorni di viaggio, e si reca presso una sezione locale, una sezione comunista locale, dove viene accolto da alcuni compagni di partito che gli mostrano con orgoglio i locali della sezione. A questo proposito, appunto, Aldo Agosti riporta una testimonianza di un membro della sezione napoletana che quella notte ha accogliato gli atti. Si tratta di un compagno della sezione di Napoli che si chiama Cacciapuoti, che dice, «Lo portammo nel salone per fargli ammirare l'esposizione dei nostri manifesti e le parole d'ordine che c'erano sul muro. Aspettavamo un bravo i compagni, cioè attendevano un cenno di approvazione da Togliatti. Invece Togliatti cambiò espressione, fece la faccia un po' scura e muoveva lentamente la testa da un lato all'altro, come fanno i bulgari per dire sì. Ci volle poco a capire che per lui quei manifesti e quelle parole d'ordine erano sbagliati politicamente». Ecco, Togliatti torna in Italia dall'Unione Sovietica con un progetto diverso per il futuro del partito. Inizia da qui un lungo cammino di ridefinizione dei principi e degli obiettivi del Partito Comunista Italiano che faranno di Togliatti il traghettatore del partito nell'era, diciamo, repubblicana. Qui mi fermo, sperando di non aver rubato troppo tempo all'intervento di Francesca. Vi ricordo solo che qualora ci fossero le domande potete scriverle nei commenti del video che è in diretta su Facebook e alla fine della lezione dedicheremo qualche minuto per rispondere alle eventuali domande. Lascio la parola a Francesca Chiaro e vi auguro un buon ascolto. Bene, eccomi, buonasera. Dunque, oggi è il 5 maggio, data di morte di Napoleone, ma noi non parleremmo né di Napoleone né della sua fine. In compenso però evocheremo Marx che invece il 5 maggio del 1818 era nato a Treviri. Ringrazio naturalmente coloro che seguiranno questo terzo incontro del ciclo di lezioni proposto da Historia Magistra ma desidero ringraziare soprattutto William Pellerino che ha pensato naturalmente in collaborazione col direttore a questi incontri ma poi soprattutto li ha organizzati. So che a volte i ringraziamenti possono suonare un po' ridondanti ma io credo che invece sia non solo giusto ma anche doveroso ringraziare Guglielmo Pellerino. E ringrazio anche Roberta Biasillo che è della nostra collaboratrice della redazione romana di Historia Magistra che come sempre ci ha aiutati nella realizzazione della locandina di questo ciclo di incontri fornendomi diciamo così anche un bell'assist per cominciare questa lezione dal fondo. In che senso dico questo? Nel senso che nella locandina come avrete certamente notato è riproposto un famosissimo dipinto di Renato Guttuso che si intitola proprio I funerali di Togliatti e che il pittore palermitano sapete che Guttuso era nato a Bagheria dipinse nel 1972 quindi a otto anni dalla morte di Togliatti e si tratta di un dipinto realizzato con colori acrilici collage su carta applicata a quattro pannelli di legno per una dimensione complessiva di 3,40 x 4,40 m quindi un dipinto di grandi dimensioni che personalmente ho avuto il piacere di ammirare in una mostra di pochi anni fa qui a Torino e che è conservato al Museo d'Arte Moderna di Bologna vi ricordate che bei tempi quando si poteva andare viaggiare, andare alle mostre comunque speriamo di ricominciare presto e Guttuso descrive così la generis della sua opera cominciai col disegnare più volte il profilo di Togliatti qua il primo problema gli occhiali era difficile renderlo a tutti riconoscibile senza gli occhiali circondai il profilo con un collage di fiori ritagliati da alcune riviste di floricultura e poi cominciai a mettere attorno a quel punto focale i ritratti dei suoi compagni quelli con cui aveva avuto i rapporti più stretti di lavoro nell'esilio in Spagna in Unione Sovietica tenendo conto dei rapporti di contogliatti e non della loro presenza effettiva ai funerali e infatti nella folla se guardate il dipinto si riconoscono fra gli altri Lenin che tra l'altro compare più di una volta Gramsci Berlinguer che proprio nel 1972 l'anno in cui Guttuso realizza l'opera è eletto segretario del PC e poi Luigi Longo che era invece stato il successore di Togliatti che sarà il successore di Togliatti nel 64 quindi alla morte del segretario di cui immagino vi dirà qualcosa colui che è il suo maggiore biografo Alexander Hubel che svolgerà la prossima lezione e poi ancora Giuseppe di Vittorio Amendola Paglietta Ingrao ovviamente Enil De Jotti e poi ancora Papà Cervi Doloresi Baruri la famosa passionaria che è stata tra le protagoniste della guerra di Spagna a cui anche Togliatti aveva preso parte come ci ha ricordato Guglielmo prima e poi ancora Stalin Bresnev e lo stesso artista che si autoimmortala accanto al fotografo Mario Carnicelli che è appunto questo famoso fotografo che ha preso insomma che ci propone molte delle immagini di quella giornata una delle quali è molto famoso c'è un militante appeso a una grata che alza il pugno proprio al passaggio della bara di Togliatti e la troverete ce l'avrete in mente se no comunque la trovate molto facilmente in rete l'annuncio della morte di Togliatti che avviene appunto il 21 agosto è comunicato dall'agenzia di stampa ANSA che riporta così la notizia con profondo dolore la segreteria del PC annuncia la morte del compagno Palmiro Togliatti 1893-1964 avvenuta oggi a Ialta alle ore 13.20 e poi il 25 agosto il giorno del funerale davvero una folla immensa gli tributa un saluto di massa proprio come aveva fatto nel 57 in occasione della morte di Giuseppe di Vittorio e come farà poi esattamente vent'anni dopo alla morte di Enrico Berlinguer e si calcola che almeno un milione di persone accompagnano in silenzio il feretro dalla sede storica del PC via delle botteghe oscure fino a Piazza San Giovanni e ricordo anche così a titolo come nota di colore che nel 1966 Pierpaolo Pasolini racconterà questa giornata nel suo Uccellaccio Uccellini che è l'ultimo film da protagonista interpretato da Totò ebbene perché questa folla silenziosa si ritrova a compiangere il segretario del PC direi che al di là delle convenzionali manifestazioni di Cordoglio il rispetto con cui si guardava a Togliatti era davvero ampio e generalizzato e credo che la verità di quel momento si possa cogliere da una bella pagina di Carlo Levi che scrive era evidente che quella folla innumerevole non era lì per una dimostrazione di forza organizzativa né per un irrazionale impulso sentimentale verso una figura mitizzata erano qui l'Italia vera tutti per una spinta comune più cosciente per dire qualcosa insieme qualcosa di cui Togliatti era oggi il simbolo il nome il punto di espressione per dire ci siamo siamo entrati in gioco anche noi e non torneremo indietro nell'ombra dell'inesistenza civile naturalmente chi ha seguito la lezione di Marco Albertaro della scorsa la scorsa lezione quella sul sul periodo della clandestinità dell'illegalità sa bene di cosa di cosa parliamo e in queste parole di Carlo Levi si sintetizza in fondo il grandissimo sforzo organizzativo culturale e politico di Togliatti e si riassume proprio in questa formula del partito nuovo a cui abbiamo dato appunto la lezione di oggi e che cercherò adesso nei prossimi minuti di descrivere aggiungo anche che non casualmente ho aperto questa lezione con due artisti di questo calibro di discipline diciamo diverse il pittore Renato Guttuso e poi lo scrittore Carlo Levi che appunto lo scrittore di Cristo si è affermato a Eboli che è uno dei romanzi diciamo più significativi del novecento italiano ma l'ho fatto proprio per sottolineare già in esordio quel fecondissimo rapporto che Togliatti volle e seppe instaurare con questa categoria con gli intellettuali una delle innumerevoli analogie anche con il pensiero di Antonio Gramsci che come sapete l'intellettuale ha dedicato centinaia di note carcerarie e non solo perché anche i suoi scritti precarcerari parlano di questi argomenti alcuni tratti della biografia Togliatteana in qualche modo sono stati già richiamati da chi mi ha preceduto e altri invece dovrò necessariamente darli un po' per spuntati e parto quindi proprio dal rientro di Togliatti a Napoli nell'Italia liberata che ha già evocato in parte Guglielmo e che appunto sbarca a Napoli proprio nel tardo pomeriggio del 27 marzo pensate durante l'ultima eruzione del Vesuvio dopo un esilio appunto di 18 anni a Mosca e si trattò di un viaggio avventuroso durato quasi un mese prima in aereo attraverso Baku Teran e il Cairo poi arriva ad Algeri e da lì gli legano il permesso di proseguire per via aerea quindi Togliatti si ritrova a viaggiare su una nave da carico inglese che attraversa il tirreno su un grande convoglio militare quindi pensate a quest'uomo che appunto rientra in una Napoli nella quale scende la cenere dal cielo era uno scenario come dire quasi apocalittico che in effetti Togliatti descrive così la città di Napoli malata per una febbre per cui si mescolavano la stanchezza l'affanno per il presente e per il futuro la ricerca ansiosa del necessario per vivere da ottenersi ad ogni costo si sentiva che l'Italia come società organizzata non c'era più che bisognava ricostruirla e in effetti nell'ambiente ristretto del partito comunista napoletano intanto si era diffusa la voce del ritorno in Italia di questo leggendario Ercoli che era il nome di battaglia di Togliatti e che sarebbe poi divenuto capo del partito ma chi fosse davvero questo Ercoli al di là dell'aura un po' leggendaria che lo circondava al di fuori della stretta cerchia diciamo dei funzionari del partito in pochissimi sapevano e però appunto nel primo discorso che Togliatti tiene ai compagni di Salerno Togliatti annuncia e spiega appunto quella che sarà la svolta e fa un cenno seppure fugace a Gramsci dicendo Antonio Gramsci ha lasciato la vita nel carcere torturato e spinto a una fine prematura dalle belve fasciste per ordine preciso di Mussolini la svolta poi sarebbe stata discussa nell'ambito dei lavori del Consiglio Nazionale che Togliatti aveva convocato per il 30 31 marzo e sarà poi lui stesso un paio di giorni dopo a dare notizia e illustrarla in una conferenza stampa come saprete appunto con la svolta di Salerno si rimanda la questione dell'istituzionale relativa alla scelta tra monarchia e repubblica a dopo la liberazione comunque prima ancora di rientrare in Italia Togliatti aveva dichiarato quale sarebbe stata la linea politica che avrebbe perseguito annunciando di essere favorevole a tutto ciò che poteva aumentare il contributo del popolo italiano alla guerra contro il nazismo e contrario a tutto ciò che poteva diminuirne o impedire questo contributo intanto il 9 settembre del 43 era stato creato in Italia il CLN il Comitato di Liberazione Nazionale che comprendeva tutte le forze antifasciste incluse quelle comuniste e fin dall'ottobre del 43 Togliatti rivendica proprio la necessità di una più decisa partecipazione dell'Italia alla guerra e all'unità nazionale e per raggiungere questo scopo sono chiamate in causa tutte le forze schiettamente nazionali quindi si ribadisce questo concetto del nazionale e si ribadisce allo stesso tempo l'impegno totale del partito comunista italiano nella lotta per la salvezza della nazione e questa svolta di Salerno rappresentò davvero come ebbe a dire Pietro Secchia evocato dal Beltaro nella sua lezione precedente ebbene Secchia disse per la rapidità e il modo in cui fu effettuata questa svolta rappresentò una specie di colpo di fulmine che inceneriva il passato e soprattutto proprio per la concezione nuova che era del partito inaugurata da Togliatti un partito che doveva assicurare ai suoi iscritti una funzione dirigente nella vita nazionale un grande partito di massa connesso profondamente non solo alla classe operaria ma a tutti gli strati popolari e questa nuova concezione del partito è descritta da Togliatti in due articoli già molto significativi che escono sull'unità di Napoli il 30 di aprile quindi a pochi giorni dal settimo anniversario della morte di Gramsci che appunto avvenne il 27 aprile del 1937 nel primo firmato Ercoli che si intitolava la politica di Gramsci Togliatti afferma che Gramsci fin dai tempi dell'ordine nuovo ma ancor più dal 1924 quando diventa segretario del partito quindi prende direttamente in mano la direzione politica aveva indicato come prioritario il perseguimento di una politica nazionale quindi si ribadisce di nuovo questo fatto in tutti gli strati della popolazione lavoratrice dall'intellettuale all'artigiano al contadino dal piccolo e medio coltivatore al professionista del mezzogiorno e tutti questi dovevano sentirsi uniti e consapevoli della necessità di affiancare al proletariato le loro forze oggi concludeva Togliatti con la fine della guerra spetterà la classe operaria ricostruire un'Italia che abbia aperta davanti a sé la via del progresso ciò sarà possibile soltanto dando seguito appunto alla politica di Gramsci colui che scrive Togliatti ha creato il nostro partito ovviamente qui Togliatti forzano decisamente il ruolo di Gramsci a Livorno che come abbiamo sentito nella scorsa lezione fu piuttosto residuale sappiamo che protagonista di quella scissione fu sicuramente più bordica che non Gramsci comunque nel secondo articolo firmato cioè intitolato l'eredità politica letteraria di Gramsci che non era firmato ma come dire all'unanimità e attribuito a Togliatti perché in quel momento era l'unico che poteva essere a conoscenza della presenza degli scritti di Gramsci a Mosca e infatti in questo caso si annuncia l'esistenza e il salvataggio di una trentina di quaderni coperti di fittissima scrittura a penna conservati a Mosca e non ancora rientrati in Italia e aggiunge che si tratta di appunti in parte non ancora pienamente elaborati il cui tema principale è una storia degli intellettuali italiani e conclude dicendo che sarà compito degli amici del nostro partito mettere al più presto a disposizione di tutti questo ricchissimo materiale di studio quindi appunto come avete notato dai titoli di questi due articoli tra i primi che Togliatti scrive appunto si fa riferimento esplicito sia alla politica sia alla cultura gramsciani e come dire in qualche in un certo senso sarà questo il primo annuncio ufficiale di quella che appunto io stesso ho definito l'operazione Gramsci e su cui fra poco torniamo però appunto anche in Togliatti cultura e politica si intrecciavano in maniera indissolubile e non soltanto per la compresenza nella sua personalità di questi due elementi ma perché come stesso ebbe a scrivere per i marxisti la politica è consapevolmente cultura per il nesso che la loro concezione stabilisce tra la base economica e le superstrutture politiche ideali della società tra la vita dello Stato dei partiti da un lato e la cultura dall'altro la formazione di una coscienza di classe unitaria che si può raggiungere solo attraverso un lungo lavorio culturale anche qui si sente tutto Gramsci è un fattore determinante per il proletariato per raggiungere la consapevolezza della propria funzione storica e non per caso un'altra delle prime azioni di Togliatti a suo rientro in Italia è la fondazione della rivista mensile La Rinascita che poi diventerà settimanale dal 62 il cui primo numero esce a Salerno proprio nel giugno del 44 quindi vedete un paio di mesi dopo il rientro di Togliatti e se andate a vedere il programma l'editoriale del primo numero non ci sono dubbi sugli intenti di questa rivista si legge il nostro scopo principale è di fornire una guida ideologica a quel movimento comunista il quale parte integrante ed elemento dirigente del moto di rinnovamento profondo che sempre più tende oggi a manifestarsi a fermarsi in tutti i campi della vita del nostro paese e dice ancora le dottrine di Marx di Engels e naturalmente lui aggiunge di Stalin devono diventare nel nostro paese patrimonio sicuro non siamo capaci di elevare barriere artificiose ipocrite tra le sfere diverse dell'attività economica politica intellettuale di una nazione non separiamo e non possiamo separare le idee dai fatti il corso del pensiero dallo sviluppo dei rapporti di forza reali la politica dall'economia la cultura dalla politica i singoli dalla società l'arte dalla vita reale e rinascita diventa davvero il centro unificatore di tutta l'attività rivolta in particolare agli intellettuali e da lì partono proprio gli orientamenti le parole d'ordine i consigli e anche naturalmente i moniti e non per caso anche appunto sul primo numero di rinascita sono pubblicati stralci di cinque lettere a Tania di Gramsci e in una nota redazionale si annuncia l'imminente pubblicazione delle lettere che in effetti sarebbe poi avvenuta nell'aprile del 47 Togliatti intanto in uno dei due discorsi che tiene a Firenze nell'ottobre del 44 sintetizza con efficacia perché lo fa proprio per punti i tre principali elementi che avrebbero dovuto caratterizzare questo partito nuovo in questa fase il primo era il carattere nazionale il secondo la partecipazione attiva non soltanto come critica ad un governo nazionale quindi come dire non solo necessariamente in posizione di opposizione e poi il carattere di massa e popolare che il partito doveva avere ed ecco quindi tracciata la fisionomia di questo partito nuovo e qual era il fine da raggiungere il fine è la cosiddetta democrazia progressiva le cui caratteristiche anche in questo caso Togliatti aveva in qualche modo già descritto in un discorso che aveva tenuto invece al teatro Brancaccio di Roma nel luglio del 44 sempre e dice democrazia progressiva è quella che guarda non verso il passato ma verso l'avvenire democrazia progressiva è quella che non dà tregua il fascismo ma distrugge ogni possibilità di un suo ritorno democrazia progressiva sarà in Italia quella che distruggerà tutti i residui feudali e risolverà il problema agrario dando la terra a chi la lavora democrazia progressiva è quella che liquiderà la retratezza economica e politica del mezzogiorno spezzando i gruppi razionali che di essa sono l'espressione e vivono di essa e effettivamente questo partito nuovo si delinea diciamo in maniera ufficiale durante il primo congresso nazionale di un partito dopo la liberazione ossia quello tenuto dal PC tra la fine del 45 e l'inizio del 46 e questo congresso che è appunto il quinto della storia del PC si svolge evidentemente in un clima di grande partecipazione e anche di entusiasmo pensate che il congresso prima si era svolto nel 1931 a Colonia e qui davvero si ritrovavano insieme uomini e donne che avevano combattuto il fascismo come dire nei vari luoghi del mondo in qualche caso erano reduci di danni di galera se non addirittura scampati ai lager nazisti in ogni caso come dire dopo questo periodo di attività clandestina tutti erano giustamente orgogliosi del prestigio politico conquistato e come dire confermato anche dalla presenza nel governo del paese infatti dopo la liberazione di Roma nel giugno del 44 Togliatti è ministro senza portafoglio del primo governo Bonomi e poi nel secondo che sarà presieduto dallo stesso Bonomi sarà vicepresidente del consiglio e in quello successivo invece presieduto da Parri sarà ministro di Grazia e Giustizia I lavori di questo congresso sono incentrati sui compiti relativi al rinnovamento economico sociale e politico dell'Italia e anche sulla politica sulla possibile fusione col partito socialista che poi di fatto non si riuscì a conseguire il nuovo statuto che viene approvato in questa occasione introduce appunto una fondale innovazione ovvero l'adesione non ideologica al partito modificando così la tradizionale forma partito comunista questo articolo che fu introdotto su proposta diretta di Togliatti e che era appunto il secondo del nuovo statuto che arriva a quelli che dovevano essere i passaggi per iscriversi al PC e appunto da allora in poi l'adesione sarebbe avvenuta esclusivamente sulla base dell'accettazione del programma politico si aggiunge indipendentemente dalla razza federe la religiosa e dalle convinzioni filosofiche e questo cosa significava che pur considerando mantenendo il marxismo l'ellinismo l'ideologia di riferimento del PC l'ingresso nel partito non era più precluso ai militanti che si rifacevano a diverse diciamo posizioni filosofiche o religiose e naturalmente questo è un cambio di passo molto significativo con le elezioni del 2 giugno del 46 la nascita della Repubblica si apre anche una nuova fase nella vita di Togliatti lui intanto deputato alla Costituente ed è appunto uno dei membri della Commissione dei 75 quella che fu incaricata della redazione del progetto della Costituzione e in più in questa fase si apre anche diciamo una nuova fase nella vita sentimentale di Togliatti infatti in quell'estate lui ha modo di conoscere Nilda Iotti che sarebbe poi divenuta la sua compagna di vita e che era anche lei deputata di Reggio Emilia alla Costituente quindi appunto Togliatti interromperà poi la relazione con la moglie che è stata anche lei una militante importante Rita Montagnani per appunto avviare questa nuova relazione con Nilda Iotti e una conferma di quanto i costituenti e le costituenti fossero consapevoli di dover guardare al futuro del paese emerge proprio dalle cronache sulla discussione dell'articolo 7 della Costituzione che è quello che recita lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono un procedimento di revisione costituzionale e perché cito proprio questo articolo è proprio perché è uno degli articoli più contestati a Togliatti una delle tante accuse di doppiezza che sono state poi rivolte diciamo da destra e da sinistra al segretario del partito e infatti su questa questione il suo ruolo fu fondamentale con devo dire anche con grande stupore non solo diciamo degli avversari politici ma anche della stessa dirigenza del suo partito e infatti appunto Togliatti si schiera decisamente a favore della esplicita menzione dei patti lateranensi nel testo costituzionale e la sua motivazione di voto però appare molto significativa infatti lui dice che fa capire che la missione principale in quel contesto era l'individuazione di un terreno comune dice lui abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso è abbastanza ampio di andare al di là di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti e appunto leggendo questa appassionata motivazione di voto lui dice la nostra lotta è per la rinascita del paese per il suo rinnovamento politico economico e sociale in questa lotta noi vogliamo l'unità dei lavoratori prima di tutto e attorno a essa vogliamo si realizza l'unità politica e morale di tutta la nazione dando il voto che diamo noi non sacrifichiamo nulla di noi stessi siamo anzi coerenti con noi stessi sino all'ultimo siamo oggi quello che siamo stati in tutta la lotta di liberazione siamo convinti dando il nostro voto l'articolo che ci viene presentato di compiere il nostro dovere verso la classe operaria e le classi lavoratrici verso il popolo italiano verso la democrazia e la repubblica verso la nostra patria e questo fu lo spirito con cui tutti i costituenti lavorarono al dettato costituzionale e che nel caso specifico potrà far dire a Togliatti al momento della votazione finale per la costituzione il partito comunista è fuori dal governo ma non fuori dalla costituzione e scusate se è poco come sapete intanto nel gennaio del 47 Alcide De Gasperi l'allora presidente del consiglio leader della democrazia cristiana aveva effettuato il famoso viaggio negli Stati Uniti ottenendo un prestito di 100 milioni di dollari per l'Italia che rientrava appunto nella strategia del piano Marshall poco dopo il 10 febbraio l'Italia firmava il trattato di pace e un mese più tardi il presidente Harry Truman enuncia ufficialmente la dottrina del containment che cos'era la dottrina con la quale auspica un programma per come dire contenere il comunismo nel mondo a settembre Stalin come contrattare costituisce il Cominform che appunto fu una sorta di terza internazionale per come dire lo scambio di informazioni di controllo di tutti i partiti legati all'Unione Sovietica compreso ovviamente il Partito Comunista Italiano le tensioni comunque non del tutto soppite dello scontro fascismo-antifascismo sapete che ci sono stati numerosi episodi di vendetta soprattutto privata no? la situazione internazionale che appunto si stava delineando il quadro di questa Italia che comunque faticava a fuoriuscire dalla catastrofe bellica in qualche modo costringono il PC a una una posizione difensiva di sostanziale isolamento di arroccamento potremmo dire e togliati in un difficile equilibrio diciamo di trasforzo di autonomia rispetto alle direttive staliniane e invece fedeltà all'unione sovietica usa sagacemente come appunto abbiamo detto l'opera di Antonio Gramsci per confermare l'identità comunista e anche e soprattutto però la natura nazionale del partito scusate un altro nell'operazione Gramsci pensata da Togliatti evidentemente cogestita da una molteplicità di voci l'opera Gramsciana diciamo è utilizzata quale tramite proprio per avviare questo dialogo con l'intera società italiana dando l'immagine di un partito affidabile per le democrazie occidentali un partito nazionale prima che internazionalista e italiano oltre che comunista e in quest'ottica il decennale della morte di Gramsci costituisce un'occasione importante che Togliatti chiaramente non si lascia sfuggire e il 28 aprile nella presigiosa sede della Camera dei Deputati è affidata a Mauro Scocci Marro la commemorazione ufficiale e Scocci Marro nel suo discorso fa proprio un riferimento al Gramsci deputato che poi appunto rappresentante del popolo italiano e poi arrestato dalla polizia fascista quindi insomma è quella comunque la guida alla quale bisogna attenersi intanto il 12 aprile quindi pochi giorni prima dai torchi inaudiani era uscita proprio la prima edizione delle lettere dal carcere che cominciarono appunto a circolare a fine mese e la scelta stessa di pubblicare queste lettere da un editore non di partito ma naturalmente come dire indubbiamente democratico affidabile come è l'editore inaudi rientra nella strategia complessiva di Togliatti e davvero l'impatto che le lettere ebbero sulla cultura italiana quasi dell'incredibile uscirono sui più diversi organi di stampa centinaia di recensioni anche su fogli che non erano dirette emanazione del partito anzi e da quel momento davvero si assiste a una moltiplicazione di articoli volti a svelare ampliare la conoscenza della figura di Antonio Gramsci e in più ad agosto le lettere sono insegnate del premio Viareggio che era un importante premio letterario peraltro fondato da uno dei compagni di Gramsci all'ordine nuovo che si chiamava Leonida Repaci e che contribuisce chiaramente al diciamo a far aumentare quel desiderio di conoscenza dell'uomo Gramsci intanto arriviamo all'aprile del 1848 18-19 aprile in cui si svolgono le elezioni politiche e in questo caso gli interventi davvero massicci degli Stati Uniti e della Chiesa Cattolica a sostegno della democrazia cristiana fecero una bella differenza nell'orientamento dell'opinione pubblica mentre in occasione del referendum del 2 giugno del 46 quando il popolo dovete scegliere tra monarchia e repubblica ecco in quell'occasione diciamo il sostegno dei cattolici fu sostanzialmente spontaneo comunque non coordinato in questo per queste elezioni politiche davvero il supporto cambia proprio di qualità e di natura forse qualcuno ricorderà il famoso anatema papale pronunciato da Pio XII in occasione del Natale del 46 o con Cristo o contro Cristo ecco bene a quel discorso fecero seguito numerose altre azioni che andavano appunto in questa direzione e si moltiplicarono diciamo gli ammonimenti diretti al clero ma anche i credenti ai quali i quali appunto erano chiamati diciamo alle urne un po' come al confessionale dovevano in qualche modo confermare la loro fedeltà anche quando si si recavano alle urle e anche l'azione cattolica naturalmente svolse un ruolo fondamentale alla testa della quale c'era Luigi Jedda che proprio scese in campo diciamo con forze massicce e in particolare nelle zone diciamo nelle enclave considerate rosse e poi appunto tutte queste azioni culminano in quella adunata romana dei 70.000 sostenitori dell'azione cattolica del settembre del 47 e comunque diciamo che come dire la strategia fu sicuramente vincente tanto che l'ADC si aggiudica la maggioranza relativa e anche quella assoluta dei voti quindi diciamo il fronte popolare sicuramente patisce una sconfitta chiara e in qualche modo è il momento in cui si coglie proprio l'effettiva spaccatura del paese e si respirava davvero in quel periodo un clima che non è forse eccessivo definire da guerra civile ricordo tra l'altro che non erano esclusi alla fine in occasione nell'occasione dell'eventuale vittoria del fronte popolare interventi da parte degli Stati Uniti sul suolo italiano che in qualche modo furono anche minacciati dallo stesso De Gasperi e quindi insomma non stupisce che in questo clima si verifichi l'attentato a Togliatti che sembra proprio un po' un contraccolpo di questa tensione che si era creata in occasione dell'elezione tenete conto che quattro giorni prima di essere colpito Togliatti aveva fatto un intervento alla Camera dei Deputati proprio contro il piano Marshall che lui interpretava come una politica di guerra e Togliatti si spinge a sostenere che appunto nel caso la situazione fosse diciamo peggiorata non si escludeva la guerra non si escludeva come dire il partito comunista sapeva bene da quale parte avrebbe dovuto collocarsi e quindi insomma in questo clima di tensione generale il 14 luglio verso le 11.40 questo giovane siciliano di estrema destra Antonio Pallante spara quattro colpi di rivoltella a Togliatti che stava uscendo insieme a Nilde Iotti da Montecitorio e appena si diffonde la notizia e prima ancora che il comitato esecutivo della CGL dichiari lo sciopero generale migliaia di lavoratori del nord Italia abbandonano spontaneamente le fabbriche e si riversano in piazza c'è uno sciopero di due giorni che insomma al quale segue la reazione durissima di Mario Scelba che era allora ministro dell'interno e che appunto schierò un dispiegamento enorme di forze dell'ordine provocando anche tutta una serie di scontri che lasciarono poi sulla piazza ben 16 vittime e insomma in qualche modo si diffonde la convinzione che il partito comunista voglia sfruttare questo momento di agitazione popolare per sovvertire le istituzioni in una specie di colpo di stato mentre lo stesso Togliatti consiglia di non perdere la testa proprio per non far cadere il partito in questa trappola che avrebbe in qualche modo giustificato il governo a scagliarsi sopra le organizzazioni del partito e in qualche modo a delegittimarle e insomma in questa situazione di tumulti di piazza di repressione intanto si diffonde questa notizia dalle radio dell'intera penisola in cui appunto Gino Bartali sul colle dell'Isoard al giro di Francia stava recuperando minuti preziosi sulla maglia gialla che si chiamava Louis-en-Boubet creando questo calo di tensione un cambiamento di clima sociale incredibile per cui questo trionfo di Bartali al 35esimo Tour de France dieci anni dopo la precedente vittoria in qualche modo sembra riunire gli italiani sotto un'unica bandiera quella tricolore al posto di quella rossa di quella scudo crociata e insomma questo si verifica questo cambio di clima sociale e questo Gino Bartali che in qualche modo era l'alter ego di Fausto Coppi proprio come i personaggi di Guareschi vi ricordate Peppone e Don Camillo incarnano le due anime contrapposse dell'Italia per cui il primo Beniamino del Papa che corre per una causa scritto all'azione cattolica il secondo invece Coppi laico burbero che addirittura arriva poi in qualche modo a rendere pubblica questa relazione con con Giulia Occhini la 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 dama bianca che come come dire in quegli anni le relazioni extraconiugali non è che fossero proprio ben viste diciamo né a destra né a sinistra né anche in centro intanto Togliatti continua il suo lavoro sul piano della cultura il 27 aprile del 1950 non a caso il 27 aprile è sempre una data fondamentale nella nelle nelle costruzioni culturali del partito comunista e quindi nel 1950 avviene la fondazione la nascita della fondazione Gramsci che comunque si inserisce diciamo in una generale ripresa dello studio per per il movimento operario internazionale intanto appunto tra il 48 e il 50 poi vabbè uscirà ancora un volume nel 51 stavano uscendo via via i famosi quaderni tematici a cura di Felice Platone in cui erano riprese le note carcerarie di Gramsci sempre in questi anni sorgono per esempio altre istituzioni culturali di questo genere come per esempio l'istituto Feltrinelli di Milano ma non solo anche l'istituto per la storia del movimento liberazione in Italia quello di Parry e così via intanto nel marzo del 53 si verifica un altro avvenimento direi dirompente per gli equilibri internazionali e non solo e mi riferisco alla morte di Stalin che avviene il 5 marzo del 53 anche Stalin muore per emorragia cerebrale e la morte di Stalin fu accolta dalla gente comune diciamo con dolore autentico si assiste a scene di pianti diffuse mentre diverso era sicuramente l'atteggiamento dei dirigenti politici sovietici per i quali invece la scomparsa di Stalin corrispose in qualche modo a una liberazione questa è l'impressione che ebbero i delegati del PC che si recarono a Mosca per il funerale infatti per esempio Amendola riferisce ad essere rimasto sorpreso dalla freddezza della cerimonia in qualche modo questi erano poi i segni dell'inizio della destalinizzazione che poi sarebbe culminata col ventesimo congresso del CUS del 56 anche in Italia l'impressione per la morte di Stalin fu enorme e forse la classe più compita fu proprio quella operaia se è vera come dimostra la testimonianza di Paolo Spriano che quella mattina portò l'unità davanti ai cancelli della Fiat l'unità che titolava Stalin è morto gloria eterna l'uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e il progresso dell'umanità e allora appunto Spriano racconta che appena uscito dalle rotative il giornale di quel 6 marzo andammo a diffonderlo dinnanzi ai cancelli d'entrata del primo turno alla Fiat gli operai piangevano non riuscivano a fermare la commozione nessun'altra occasione e guagliò quel sentimento di strazio quasi di panico proprio della perdita del padre che la scomparsa di Stalin suscitava nei militanti nei lavoratori che avevano identificato in lui la causa del loro riscatto e poco dopo poco dopo in questa situazione come dire di mutamenti politici significativi si inserisce anche la morte di De Gasperi che avviene invece nell'agosto 19 agosto del 54 una relazione a parte meriterebbe il famoso anno spartiacque proprio il 56 infatti non a caso la prossima lezione di Alexander Rubel prenderà diciamo avvio proprio da quell'anno che comincia politicamente col ventesimo congresso del CUS nel febbraio del 56 durante il quale appunto Khrushchev condanna il culto della personalità di Stalin insomma sostanzialmente non solo il culto della personalità ma tutta quella fase politica e il 56 davvero rappresenta una data fondamentale per il partito comunista italiano sia riguardo al suo profilo strategico sia anche riguardo alla sua stessa identità e infatti alla fine del 56 questa famosa via italiana al socialismo sarà compiutamente delineata e al tempo stesso sarà come dire delineata anche la collocazione internazionale del PC in quello stesso anno quindi sempre 1956 hanno luogo poi anche la crisi dei Suez che inizia verso la fine del mese di luglio e l'insurazione di Budapest che prende avvio il 23 ottobre di fronte alla quale in seguito alla posizione meno ufficiale assunta dal PC che si schiera pubblicamente a favore dell'Unione Sovietica contro i dimostranti si assisa a quella che è stata definita la diaspora degli intellettuali italiani ma non solo devo dire come diciamo se tutto il lavoro di Togliatti potesse in qualche modo svanire o comunque essere messo in discussione con questa mossa un po' avventata ma in realtà molto comprensibile esaminando più a fondo i fatti del resto proprio in questa occasione Togliatti tirà quella famosa frase si sta con la propria parte anche quando questa sbaglia e comunque in un discorso tenuto poi a Napoli a pochi mesi dalla morte Togliatti rievoca quella stagione dicendo vi ricordate che cosa avvenne allora tutti credevano che fossimo finiti che non ci fosse più nulla da fare per noi che fossimo ormai esclusi dalla scena politica ridotti alla disperazione signore signore perché tu ci hai abbandonato e quindi fossimo pronti per la crocifissione e invece non successe nulla di tutto questo proprio perché in quel momento ci siamo sentiti anche nella difficoltà più forti e in effetti secondo le cifre ufficiali le perdite furono abbastanza contenute tra il 56 e il 57 non furono rinnovate 300.000 tessere ma come dire ci furono 100.000 reclutati in più gli operai diminuirono in termini assoluti ma come dire soprattutto non ci ecco sì insomma comunque la percentuale rimase in qualche modo stabile intorno al 40% ma soprattutto come dire il PC non registrò perdite significative sul terreno elettorale infatti nelle elezioni del 58 più o meno sono confermati i voti del 53 e anzi nel 63 si registra un aumento di tre punti percentuali quindi diciamo come dire in qualche modo l'operazione di conservazione del partito diciamo ebbe un sostanziale successo questo sarcasmo appassionato però ex post di Togliatti che anche in questo caso ci ricorda molto Gramsci e diciamo sostenuto dai fatti però non c'è dubbio che in quell'anno la cultura di sinistra fu investita fino in fondo dalla crisi dello stalinismo e davvero venne chiamata in qualche modo a un bilancio di quel decennio trascorso e anche in qualche caso c'è anche una verifica degli strumenti operativi che adoperava e infatti anche in questo caso uno degli impegni che prende l'istituto Gramsci è l'organizzazione internazionale di un primo convegno internazionale di studi gramsciani che poi si terrà a Roma nei primi giorni di gennaio del 58 e stiamo parlando del ventennale della morte di Gramsci che riunisce o vuole riunire appunto intellettuali di tutte le aree democratiche nel tentativo appunto di ricucire in qualche modo quei rapporti con quel mondo che si erano un po' inclinati diciamo con il 56 e Togliatti come sempre partecipa attivamente anche all'organizzazione di quel convegno invitando intellettuali e studiosi come dire strani anche il partito comunista in qualche caso compagni vicini eccetera però mi riferisco per esempio a Bobbio a Calogero lo stesso Cantimori che era proprio uscito due anni prima dal partito dopo questa diaspora degli intellettuali che appunto succede al trauma del 56 anche il PC si trova a fare i conti con le grandi trasformazioni che si verificano tra il 58 e il 62 e mi riferisco agli anni del cosiddetto miracolo economico che vide una trasformazione profonda dei costumi e delle abitudini sociali e che chiaramente implicavano necessariamente anche un ripensamento della concezione della cultura e degli stessi rapporti di classe infatti al centro del miracolo economico stavano l'arricchimento individuale il desiderio di consumo il trionfio insomma delle spontanee dinamiche del mercato che naturalmente insomma non erano del tutto in linea con diciamo i riferimenti tradizionali del partito e proprio su questo e proprio in questo ambito insomma i dirigenti del partito tra cui per esempio Alicata e Paglietta devono in qualche modo rivedere anche la loro posizione sulla sulle sulle fasi del capitalismo che fino ad allora si era creduto inevitabilmente che inevitabilmente sarebbe in qualche modo stato sconfitto sulla base della diciamo tradizionale teoria marxiana e Amendola dirà soltanto nel corso del 1960 il miracolo economico è stato avvertito in tutta la sua importanza dai partiti politici italiani la via italiana al socialismo che appunto fu fortemente rivendicata durante l'ottavo congresso che si svolge dall'otto al 14 dicembre del 56 implica evidentemente anche una ridefinizione dei rapporti con l'Unione sovietica e come dire una traduzione concreta del socialismo nella realtà italiana diciamo che sul terreno nazionale i rapporti con gli intellettuali sono sicuramente reimpostati in senso più liberale più liberale viene confermata del tutto l'autonomia artistica e come dire lo sdanovismo adesso era davvero lontano dalla strategia del PC che invece era appunto impegnato in quella che è stata definita la politica dei mille rivoli nel tentativo proprio di evitare l'isolamento e di aggregare forze politiche e culturali più eterogenee che riconoscessero però la legittimità del partito a partecipare in tutto per tutto alla politica democratica italiana in questa prospettiva si inserisce la lotta per la difesa della scuola pubblica appunto che rientra adesso tra le priorità culturali del partito alla quale poi si aggiungono la questione dell'emancipazione femminile come dire la la riproposizione ai giovani dei valori della resistenza dell'antifascismo la lotta contro la censura e appunto con la direzione politica dettata da Mario Alicata che si ripana tra il 55 e il 62 la cultura italiana si rinnova e si fa davvero diciamo moderna ecco un'altra delle azioni che si è svolta in questo momento per esempio il rafforzamento delle strutture associative del partito mi riferisco per esempio alle case della cultura ma anche alla costituzione dell'Arci l'associazione ricreativa culturale italiana che proponeva appunto agli iscritti una concezione nuova della cultura sicuramente più sensibile alle esigenze delle nuove generazioni che naturalmente tendevano un po' ad allontanarsi dalle sezioni del partito quindi insomma si proponeva un'immagine moderna della cultura dei suoi prodotti artistici anche perché appunto le masse dei lavoratori dispongono sicuramente di maggior tempo libero ecco quindi la cultura di massa che si stava diffondendo sempre più velocemente anche attraverso il mezzo televisivo dando corpo appunto a quei nuovi bisogni consumistici a cui abbiamo fatto riferimento prima le nuove istanze nuove esigenze e posta appunto al centro della politica culturale del partito e lo stesso Togliatti per la prima volta durante le elezioni amministrative del 1960 si serve del mezzo televisivo in campagna elettorale la prima volta quindi si rende conto dell'importanza anche del del mezzo è carina anche la testimonianza dice probabilmente molti di coloro che per la prima volta mi hanno veduto ascoltato credevano sul serio che io sia un tenebroso e torvo personaggio diabolico un tipo dal piede forcuto come fu proclamato una volta all'inizio della campagna elettorale questa campagna elettorale era proprio quella del 48 questa espressione l'aveva usata De Gasper e va bene mi avvio adesso la conclusione ritorno all'inizio quindi alla morte di Togliatti dicendo che appunto il 21 agosto del 64 mentre si trovava a Yalta in Unione Sovietica diciamo per un viaggio per una vacanza di riposo Yalta allora era in Crimea adesso in Ucraina anche Togliatti muore per emoreggio cerebrale mi ha detto proprio come Stalin e come Gramsci aveva da poco concluso la redazione del memoriale di Yalta che poi venne considerato una sorta di testamento spirituale però ecco al di là diciamo dell'ondata emotiva che seguì questa morte e che appunto poi ci sarà come detto in esordio Luigi Longo a prendere in mano il partito comunque ecco la morte di Togliatti sicuramente libera degli spazi di dibattito quando non proprio di scontro all'interno della sinistra ortodossa e non solo e chiaramente questi scontri si sono riproposti anche nell'ambito diciamo della lettura del Gramsciismo quella che in qualche modo comunque Togliatti negli ultimi anni di vita aveva cercato l'immagine di liberare l'immagine di Gramsci da quella da quella del PC e adesso però appunto siamo a un passo dal 68 che in qualche modo rappresenta l'esplosione di queste aperture sicuramente rappresenta un altro nodo fondamentale della della storia d'Italia e nel caso appunto dell'Italia oltre al 68 abbiamo anche il 69 che è appunto l'anno degli operai 68 anno degli studenti 69 anni degli operai però ecco appunto questa è un'altra storia che non sarò io a raccontarvi io mi mi fermo qui do la parola a Guglielmo Pellerino e vi ringrazio io non sento nulla ok grazie dicevo grazie Francesca per questa preziosa e interessante lezione ricordo tutti e tutte che è possibile fare delle domande se qualcuno fosse interessato potete scrivere le vostre domande nei commenti sotto la diretta di Facebook intanto Francesca prima ha parlato del film Uccellacci Uccellini di Pasolini e mi viene in mente che oltre a quel film c'è un altro film del 67 un anno dopo che riguarda sempre i funerali di Togliatti ed è i sovversivi dei fratelli taviani dove recita tra l'altro un giovanissimo Lucio Dalla e quel film è incentrato totalmente su quell'evento e secondo me questi due film più diciamo dell'opera di Guttuso che come hai ricordato è molto successiva questi invece sono dei film delle opere artistiche che sono vicine a quei fatti riportano bene diciamo l'impatto emotivo che ebbe sulle persone la morte di Togliatti addirittura nel film i sovversivi i protagonisti come dire vanno a quasi a rivedere la loro vita a ridefinire la loro vita proprio in funzione di quell'evento quindi secondo me è una cosa molto interessante e ricordo ancora già che hai parlato del 5 maggio della nascita di Marx colgo l'occasione per ricordare che il 29 aprile 2020 ci ha lasciati Gian Mario Bravo e un grande studioso di Marx uno dei maggiori studiosi del pensiero di Marx noi di Historia Magistra abbiamo recentemente pubblicato un volume con i suoi scritti su di Gian Mario Bravo che si chiama Un maestro per la storia scritti su Gian Mario Bravo appunto edito da Franco Angeli trovate tutte le informazioni sul sito di Historia Magistra per acquistarlo e inoltre abbiamo anche pubblicato un video di una testimonianza in ricordo di Gian Mario Bravo proprio fatto dai curatori di questa di questo volume che sono Francesca Chiarotto appunto è il direttore Angelo Dorsi e va bene allora Francesca se non hai altro da aggiungere ti ti ringrazio per questa lezione grazie a te grazie a tutti a tutte ricordo che il prossimo evento si terrà il il 19 maggio e avremo come relatore Alexander Ubel che terrà una lezione dal titolo da Budapest a Praga 1956 1968 per per rivedere questa questa lezione e tutte le altre potete collegarvi al canale youtube di Historia Magistra vi ricordo anche che è possibile acquistare la nostra rivista o sottoscrivere un abbonamento alla rivista andando a trovare le informazioni sul sito di Historia Magistra e e niente vi ringrazio ancora per per l'ascolto vi auguro una buona serata a presto grazie grazie a tutte a tutti ciao guglielmo grazie grazie a tutti